Oggi siamo all'Aquanik, il nuovo parco acquatico di Nickelodeon in Messico. Se sei cliente dell'hotel avrai accesso illimitato al parco, ma se come noi non lo sei, potrai tranquillamente acquistare un day pass. Nel parco troverai attrazioni per tutte le fasce d'età e come puoi vedere c'è solo da divertirsi. Per esempio questo è uno scivolo pazzesco. Inoltre c'è anche un fiume dove potrai rilassarti sul tuo gommoncino, ma una delle mie attività preferite è stata la doccia di slime. Il cibo e le bevande sono incluse, infatti in alcune parti del parco troverai gli Aquabite per ordinare pasti veloci. Se ti piace però mangiare nel ristorante avrai anche l'opzione di mangiare nel Nick Bistro, coloratissimo e con un ottimo buffet.